La tassa di soggiorno a Castellabate si pagherà con PayTourist, una soluzione innovativa per il turismo. Il nuovo progetto, che è già online, è stato presentato a tutti gli operatori del settore durante un incontro pubblico presso l'Aula Consiliare del Comune di Castellabate. Attraverso l'uso del nuovo software, che monitora, segnala e permette di riscuotere in maniera automatizzata l'imposta di soggiorno, sarà possibile scansionare e verificare in modo continuo tutte le inserzioni presenti in rete nei principali siti e portali delle prenotazioni turistiche. Ciò permetterà in modo automatico di regolarizzare tutte quelle strutture che sono tenute al versamento. È possibile visitare il sito www.castellabate.payturist.com per conoscere i dettagli e registrare la propria struttura, ricevere assistenza telefonica al numero 02871 57701 o presso l'ufficio comunale dell'imposta di soggiorno. Il sistema è accessibile anche da dispositivo mobile ed è sviluppato per semplificare la gestione dei pagamenti anche per le forme di ricettività extraalberghiera attraverso un sistema di notifiche push che agevolerà l'invio delle comunicazioni. Attraverso questo nuovo sistema e le modifiche apportate in Consiglio Comunale censiremo correttamente tutte le strutture presenti nel nostro territorio, commenta l'assessore al turismo e alla cultura del Comune di Castellabate Luisa Maiuri. Semplificheremo le procedure di registrazione degli ospiti e la riscossione effettiva dell'imposta, oltre a continuare nella serie capillare caccia ai furbetti e agli evasori. Castellabate, conclude la Maiuri, pone al primo posto la sicurezza che nasce anche dal monitoraggio e dall'incrocio dei dati che ci verranno forniti.